però, tenete sotto, tenete sotto facciamolo bene, facciamolo bene c'è la luna che ci guarda, pronti? giù! qualcuno c'è sempre che lo tiene su, giù 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 chiaramente tra poco vi dirò di tirare su pronti? vedete lì, vedete, siete riprese da almeno 7, 8, 9 telecambi pronti? pronti? giù 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 pronti? pronti? su! che caldo è stasera Roberto io avrei finito allora si scelta me scelta me ciao!